Smulling a parametro zero? L'Inter osserva a distanza. Ma ha già delineato una strategia. Inter su Chris Smulling? Il difensore inglese è in scadenza di contratto e con la Roma l'accordo per il rinnovo non è ancora stato trovato. Quindi potrebbe essere un'occasione a zero per la prossima stagione. Secondo quanto risulta, offerte vere del club nerazzurro per l'ex United ancora non sono state formulate. A gennaio. I suoi agenti James Featherstone e Will Thornton sono attesi in Italia. Si parte da Roma. Tiago Pinto vuole rinnovare. Ma offre un anno solo alle attuali condizioni. 3,5 milioni più premi. Mentre le richieste dell'entourage del difensore sono più alte. Biennale e con ritocco a 4,5 milioni a stagione. La partita si giocherà tutta lì. Sul piano economico. La gente dell'inglese ha incontrato Tiago Pinto e riflette sul futuro del suo assistito. La Roma vorrebbe non privarsi dell'ex Manchester United centralissimo e fondamentale nello scacchiere tattico di Mourinho. Il contratto di Smalling con i giallorossi scadrà il prossimo giugno e la gente ha pubblicamente smentito la clausola del rinnovo automatico. Dipenderà quindi tanto dalla volontà del giocatore classe 89 che spera di strappare un ultimo importante contratto nella sua carriera.